Buongiorno a tutti, per la realizzazione di questi muretti a secco sono partito con tanta pazienza da delle striscioline di polistirene e da cui ho ricavato dei mattoncini che poi ho incollato a mo' di puzzle uno ad uno con delvinaville su un'altra striscia di polistirene. Poi ho passato sui mattoni un rullo con dei sassolini incollati per creare irregolarità e dare rilievo ai mattoni. Ho anche smussato i bordi delle pietre con il cutter e ho ridefinito alcune fughe che si erano incollate con ilvinaville. Ecco qui potete vedere come sto separando le varie pietre, smussando un po' gli angoli e aprendo eventuali fessure che si erano incollate con ilvinaville. Sempre con il taglierino ho proceduto poi a evidenziare le fughe dei mattoncini applicati sul lato superiore del muretto. Ho poi rimosso le due estremità del muretto dando un'idea di un muretto crollato e ho reso ruvida la superficie passando della carta vetrata e infine ho dato una mano di fondo color grigio diluito molto il colore. Ecco qui sto applicando del grigio su tutti i mattoni, un grigio molto diluito e al termine di questa operazione procederò a evidenziare le fughe. Le fughe sono state evidenziate con una siringa utilizzando all'interno del nero diluito. Dopo diverse iniezioni ho proceduto a asciugare il colore in eccesso tamponando con dello scottex. in seguito sono passato a dipingere il muretto e ho scelto dei colori basandomi su una foto presa da google dove appunto era evidenziato un muretto a secco ho anche mischiato i vari colori ed effettuato delle sfumature sulle pietre per non renderle tutte uguali ovviamente sempre tamponando il colore in eccesso alla fine. E poi ho dato con del bianco una sorta di lumeggiatura quindi dando maggior rilievo alle pietre. Come ultima lavorazione ho inserito tra le fughe il mix di terre che avete visto nei precedenti articoli ed ho poi proceduto a nebulizzare il muretto con dell'acqua. Questo per far impregnare il rasante. Diciamo che una essiccazione quasi completa sia dopo circa un'ora 40 gradi e non è proprio completa che permette di rimuovere il grosso della terra sempre tramite pennellino. Dopodiché si può aggiungere anche della vegetazione. Ecco in questa fase sto spruzzando dell'acqua sopra il mix di terra per far impregnare le fughe e poi attendo l'asciugatura. In quest'altra fase che vedete sto applicando della vegetazione quindi dell'erba molto fine nella parte alta del muretto e poi procederò ad inserire nelle fughe qualche ramoscello. Bene, questo è il muretto terminato. Come potete vedere è molto carino, sembra anche molto realistico. Io vi auguro una buona serata, vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete like e ci vediamo alla prossima. Ciao!